positive, la parte teorica su elettrosensibilità ed elettrosensibili anche in base alle ultimissime lavori, ultimissime scoperte, dovremmo andare molto veloci, poi in un'altra occasione magari le andiamo a studiare. Allora io non so se dire che appartengo alla categoria, appartenevo la categoria degli elettrosensibili per cui negli ultimi vent'anni mi sono incuriosito per il mio interesse personale. Oggi non lo sono più, così come non sono più meteopatico, ma perché ho incrementato notevolmente il mio livello di bioenergia con varie tecniche che tu conosci, fra cui anche la nostra vitalizing card. Insomma, sono tante tecniche di tantra kundalini. Chi più ne ha, chi più ne ha. Allora, permettemi di presentare la tua relazione e di presentarti. Allora, il dottor Gelli ha tantissime specializzazioni e da tanti anni si occupa proprio di campi elettromagnetici, di medicina quantistica, di bioenergia, di stanchezza e, come sapete, ha scritto anche numerosi libri tra cui vincere la stanchezza. E proprio per questo, insomma, vi presento Laura in farmacia, presidente dell'Accademia delle Scienze e Medicina Funzionale Uranus, vicepresidente ANM e Accademia della Nutrizione e Medicina Anti-Aging. Ha scritto numerosi libri, come dicevo, anche uno è molto interessante, un capitolo sulla medicina funzionale, che è, come sapete, oggetto della nostra importante scuola di alta formazione, che ricordo a tutti, partirà a settembre. Questo appuntamento fa parte di quattro appuntamenti. Il prossimo sarà il 23 maggio e poi 5 e 6 giugno. E poi ci riposiamo un po'. Quindi, se avete bisogno di informazioni, approfondire per iscrizione alla scuola di alta formazione, siete benvenuti e ci mandate un'email a noi oppure alla segreteria organizzativa Upainuk, che approfitto per ringraziare soprattutto Monica Grant, la Giovanna Barbato, Ilaria, che era con noi ieri. Insomma, grazie a tutti gli organizzatori, compreso Stefano, eccetera. Adesso do la parola al dottor Alessandro Gelli, che oggi proprio ci parla e si approfondisce quello che noi stiamo parlando questa mattina sull'elettrosensibilità, l'elettrosmog, stress di campi elettromagnetici artificiali, ricerca scientifica e applicazioni pratiche. Grazie di cuore, buona relazione. Allora, perché gli elettrosensibili e il problema dell'elettrosensibilità aumenterà sempre più? Perché recentemente sono stati anche accettati dei livelli circa di tolleranza in volt su metro di circa dieci volte superiori rispetto a quelli attuali. Quindi, in generale, vado proprio molto rapidamente, gli elettrosensibili sono delle persone scomode nell'ambiente scientifico. Attualmente l'elettrosensibilità infatti non è riconosciuta né dall'OMS né dalla comunità scientifica ufficiale. Eppure, su tutto il pianeta Terra, di persone elettrosensibili o che si dichiarano tali, ce ne sono veramente tanti. Ci sono alcuni lavori recenti che stanno dimostrando che esistono oggettivamente, in modo biologico, problematiche che inducono una serie di fastidi che, ora vedremo quali, cambiano anche molto da persona a persona. Qua ho riportato rapidamente un po' di bibliografia, sia su alcuni lavori a favore e anche su lavori che invece vanno a dimostrare, però bisognerebbe vedere come sono stati studiati, che in realtà l'elettrosensibilità, secondo alcuni ricercatori, non esiste. Ora sappiamo bene come, però, ogni studio, ogni ricerca viene organizzata con dei criteri, quindi bisogna vedere anche quali sono i criteri di inclusione, di esclusione. C'è un lavoro, come vedete qua, dalla bibliografia, l'elettrosensibilità può avere un impatto significativo sulla qualità della vita causando un deterioramento fisico, mentale e sociale e di stress psicologico. Con tanto di bibliografia, adesso ecco, la vediamo al volo e il lavoro che abbiamo citato, come vediamo, non è neanche recentissimo, del 2004, quindi significa che ci sono delle problematiche che ormai ci stiamo trascinando da tempo. Come ho accennato, l'innalzamento del limite di dieci volte, se già avevamo gli elettrosensibili con un limite di 6,1 volte su metro, figuriamoci che cosa accadrà tra un po'. Quali sono i sintomi e le problematiche che sono lamentate? Quindi io riporto quello che ufficialmente viene riportato, però poi, come accennavo prima, negli ultimi vent'anni ho cercato di seguire, sentire le lamentele dalla viva voce di persone che si autodefinivano elettrosensibili, che avevano vari tipi di disturbi. Uno di questi, per esempio, visto che io sono uno studioso di come incrementare la performance psicofisica, uno di questi sintomi principali è la stanchezza, diminuzione di concentrazione, riduzione della qualità del sonno, alta lenanza dell'umore, quindi si può passare da momenti di stanchezza, di cattivo umore, a momenti di irritabilità. Quindi tutta una serie di sintomatologie che possono essere viste e annoverate come forme tra virgolette psicosomatiche e da stress non gestito. In realtà, una delle mie ipotesi che porto avanti da qualche anno è che in realtà i vari campi elettromagnetici artificiali siano una forma di stressor, ovvero un tipo di uno stressor che si aggiunge, quindi uno stressor di tipo elettromagnetico artificiale, quindi campi elettromagnetici artificiali, che si aggiungono ad altri tipi di stressors di natura emotiva ed altri tipi di stressors che sono di natura chimica, come appunto quelli che scaturiscono dall'inquinamento ambientale, da tutte quelle molecole anche molte recenti, che andiamo a ingerire nell'acqua col cibo e anche respiriamo nell'aria. Quindi perché anche elettrosmog? Più che corretto, perché in realtà è un tipo di smog che si aggiunge allo smog, è un tipo di stress che si aggiunge e si somma ad altri tipi di stress. Quindi il fatto che ci siano varie sintomatologie che sono anche annoverabili a forme di stress non gestito, secondo me non deve assolutamente stupire, perché in realtà per diventare più forti bisogna diventare più forte un po' a 360 gradi. vediamo, ci sono disturbi di tipo neurologico, di tipo cardiaco, fra cui palpitazioni, di tipo dermatologico, immunitari, che vanno a coinvolgere il sistema neuroendocrino, urinari e tanti altri. Ora, in generale, che cosa possiamo vedere? che, questo ci posso mettere anche un po' la mia esperienza personale, che alcuni soggetti con chi ho avuto a che fare in questi anni, che si definiscono elettrosensibili e che possono migliorare, e che poi vedremo con l'altro gruppo di diapositive con una serie di rimedi pratici, che possono migliorare il loro stato di tolleranza ai campi elettromagnetici artificiali, poterli gestire meglio, anche con una serie di attenzioni, oltre che di tecnologie naturali, diciamo. Molte di queste sono anche meteosensibili e meteopatici. Questa è una mia osservazione, di cui mi assumo, diciamo, la responsabilità. Questo perché, come ho dimostrato in altre lezioni, esposizioni, a livello solare, l'irraggiamento solare, durante anche alcune attività solari, sono ben noti, e ci sono parecchi lavori, ho riportato numerose bibliografie, in altre esposizioni, dove l'attività solare può indurre una serie di sintomatologie che non sono così diverse, anche se più intense, a delle sintomatologie che, per esempio, sempre soggetti che rientrano tra il meteopatico, elettrosensibile e così via, troviamo, per esempio, a primavera, e sono sempre mal di testa, stanchezza, alterazioni del sonno, palpitazioni, extrasistole, possibili tremori. Quindi, quello che è alterazione della qualità del sonno, e quindi debolezza, stanchezza, eccetera. Queste osservazioni, mettendo insieme tutta una serie di lavori, di bibliografie e di osservazioni, diciamo, anche personali, ho potuto, diciamo, estrapolare una serie di considerazioni che ho riportato, ecco, lo posso far vedere, tanto questo non è un lavoro ECM, che ho riportato proprio nel libro Vincere la stanchezza, lo stress e la fatica. Lì c'è proprio un intero capitolo. Recentemente troviamo un lavoro su Brain and Behavior, dove si evidenzia in questo lavoro come ci siano dei cambiamenti nel comportamento e addirittura delle alterazioni a livello del profilogenico. È un lavoro che consiglio di leggere, è un lavoro molto... aspetto ad altri tipi di lavoro che invece hanno, tra virgolette, non voglio dire la presunzione, ma insomma, vogliono... fa comodo, ecco, diciamo che fa comodo insistere sul fatto che gli elettrosensibili non esistono e che tutt'al più sono psichiatrici o giù di lì. Vediamo, ecco, un altro lavoro, questo invece in recentissime, nel 2016, dove si vede come ci siano oggettivamente delle manifestazioni attribuite ai campi. Rapidamente quello che vado sempre a evidenziare è che ognuno di noi è un po' un caso a sé, quindi c'è una visione globale ad personam, quindi bisogna un po' capire che ognuno di noi è un piccolo universo che può fare di ogni erba un fascio. Quindi io direi proprio in un ambito di medicina funzionale andare a rispettare anche se un utente ci dice di essere oggettivamente elettrosensibili, tanto oggi abbiamo tutta una serie di piccole accortezze, poi le vediamo bene e rapidamente. Allora, molto rapidamente da un sito che vediamo riportato sotto quando l'ho consultato, Inquinamento Italia, si vede che il... sino a qualche anno fa viene riportato in questo sito il 3% della popolazione mondiale in media era già elettrosensibile. ipotesi invece che stiano aumentando, aumentando. Perché se è vero che le sintomatologie da elettrosensibilità peggiorano dei sintomi che il soggetto potrebbe avere per altri motivi, per altri tipi di stressors, è chiaro che questo accumulo, questo peggioramento dei vari sintomi si possono... bisogna capire che sulla persona singola bisogna agire un po' a 360 gradi, riducendo l'impatto dei vari tipi di stressors, fra cui quelli elettromagnetici. Ecco, qui vediamo come in varie nazioni possono essere da vari lavori, qui ne è riportato un lavoro in particolare del 2006, come negli ultimi diciamo anni c'è stato un aumento praticamente esponenziale degli elettrosensibili, quelli che si sono autoproclamati ovviamente elettrosensibili. Allora, in molti casi ovviamente si è cercato poi di andare a definirli in un modo più scientifico. Non ho il tempo assolutamente di andare a trattare quali sono i biomarcatori, ma è molto interessante il fatto che in questo lavoro del 2015, quindi già abbastanza relativamente recente, dove viene affermato che con questi biomarcatori grossomodo nell'ottanta per cento dei casi si può dimostrare uno stress di natura ossidativo. Quindi attualmente già sappiamo che i campi elettromagnetici artificiali peggiorano un tipo di stress che è lo stress ossidativo. Ovviamente vari lavori vanno a dimostrare che i campi elettromagnetici artificiali oltre a stanchezza, mal di testa, palpitazioni e sintomi che sono più simili allo stress non gestito, invece ci possono essere patologie ben più gravi. Come vediamo più avanti, per esempio all'Istituto Ramazzini hanno dimostrato che bisogna assolutamente gestire lo stress da campi elettromagnetici dal punto di vista della prevenzione del cancro. Quindi qui c'è tutto riporto, vado molto rapidamente, però comunque è la probabilità che magari in soggetti predisposti ci possa essere favorita una forma di cancere regione città data da questi campi elettromagnetici, diciamo, ci sono varie evidenze, soprattutto sugli animali attualmente, che non si è affatto casuale. Purtroppo, ripeto, attualmente il dibattito è fortemente, soprattutto in ambito istituzionale e ufficiale, la cosa è fortemente dibattuta. anche se, come vediamo, ci sono tanti, ci sono già tanti lavori che dimostrano problematiche vere e proprie. Quindi qui sto ancora rimettendo in evidenza che non siamo tutti uguali, addirittura ci sono dei lavori che dimostrano come vari tipi di campi elettromagnetici possano influenzare i batteri, quindi probabilmente potrebbero influenzare anche parte del microbiota intestinale e quindi il microbiota, essendo costituito da numerose classi di batteri, virus e funghi, potrebbe essere influenzato, e qui bisognerebbe studiare bene, come? Da campi elettromagnetici. Influenzando questo, si va a influenzare la grande connessione del gut-brain axis. Ecco, qui c'è un lavoro in particolare, ne riporto uno un po' per tutti gli altri. Ok, no, l'ho perso, ma lo vedremo dopo, tanto poi li vediamo. Allora, cosa è importante? Che ci sono numerosi tipi di frequenze, in base ai dispositivi che ci circondano, e noi quindi siamo attraversati da onde di frequenze molto diverse tra loro e siamo permeati contemporaneamente da questi diversi tipi di campi elettromagnetici, come mai avvenuto nella storia. Ecco, questo è il punto fondamentale. Non c'è un background storico a cui ci si può rifare, anche perché i campi elettromagnetici naturali, medi, del pianeta Terra sono ultra deboli, veramente ultra bassi, mentre invece i campi elettromagnetici artificiali hanno una densità di flusso, diciamo, una intensità molto molto più alta. Quindi, a parte la corrente continua che è a zero hertz, tutto ciò che è in corrente alternata ha quindi frequenze, ha quindi delle onde, e partiamo da 50 hertz, saliamo sempre di più cellulari, arriviamo sino all'ultima generazione che ne ha parlato l'amico Fioranelli, quindi è inutile dirvi sulla quinta generazione che cosa può arrivare a dire. In pratica, più aumenta la frequenza e più aumenta, diciamo, l'energia, come vediamo qui le onde diventano più strette, più fitte, quindi le ionizzanti sono quelle ad alta energia, tra cui i raggi X e gamma, ma non significa che le non ionizzanti, semplicemente perché noi non ionizzanti non diano problemi, anzi, pensiamo a tutti quelli dei ripetitori cellulari, il microonde, e noi appunto andremo proprio nella zona del microonde con la quinta generazione. Sul pianeta Terra la frequenza di madre Terra è intorno agli 8 hertz, che può fluttuare momentaneamente durante attività come per esempio fulmini, tempeste, e poi vi è un'attività geomagnetica che anche quella ha delle influenze. In altri nostri incontri ho riportato molte bibliografie di lavori che sono un po' misconosciuti, però si trovano su PubMed. Cosa particolare è che la frequenza di Schumann che è di base, io dico, intorno agli 8 hertz, corrisponde alla frequenza dello stadio alfa, che è lo stadio, quello del pre-REM, cioè lo stadio in cui si è rilassati. Quindi dovrei, ecco, senza entrare nel discorso ora dei biofotoni, rivado a riaccennare come mai dobbiamo agire rapidamente sul concetto dell'accumulo dei vari tipi di stressors e che quindi per ragionare in un'ottica di incremento di anti-aging e dell'incremento della performance psicofisica bisogna agire su più livelli. Quindi ridurre i vari tipi di stressor, fra cui anche agire a livello dell'alimentazione, dei nutraceutici, sapere anche qual è la nostra situazione a livello di quanto abbiamo assorbito. Vedremo ora anche varie strumentazioni. Qui la grande suddivisione delle macro-categorie degli stressors, quindi quelli cognitivi, emozionale, non cognitivi, batteri, virus e tossine. La terza categoria, io ormai tolgo il punto interrogativo, è quella indotta da campi elettromagnetici artificiali. Quindi anche sulla melatonina ci fu un libro che è molto famoso del professor Reiter. La cosa strana è che in ambito ufficiale mi è capitato di scontrarmi in ambito istituzionale sul fatto che non ci sono lavori sulla riduzione della melatonina. Ecco, qui ne riporto tre. Non sono recentissimi, ma come vedete, i lavori sui campi elettromagnetici e influenza di serotonina e melatonina, qualcosa c'è. Allora, non tutti noi abbiamo la stessa quantità di magnetite nel cervello. La magnetite fu scoperta da Kirsvink. All'inizio ovviamente fu preso in giro, come tutti gli innovativi, ma la biomagnetite è all'interno del nostro umano, quindi del cervello e del sistema nervoso umano e pare che abbia una certa influenza sui campi elettromagnetici esterni. C'è un video fatto da Discovery Shines dove fanno vedere come un soggetto che tende random ad avere crisi epilettiche inducendo in laboratorio dei campi elettromagnetici esterni artificiali, proprio in quel momento questo soggetto volontario ovviamente ha una crisi epilettica. Quindi la magnetite nel cervello umano, quindi non ce l'hanno solo gli animali, i salmoni, tutte le varie animali, anzi non pare, ormai è dimostrato che ce l'abbiamo anche noi esseri umani. Quindi è ancora in dubbio se c'è una specie di magnetobussola anche da parte. Quindi sul discorso delle varie possibilità patologiche ci sono tutta una serie di bibliografie, qui le rilancio molto molto rapidamente. Allora cosa possiamo fare? A questo punto noi dobbiamo imparare per esempio a identificare in maniera molto molto rapida, prima di vedere i vari device, andare a identificare la distanza di sicurezza del nostro corpo dai vari dispositivi, tablet, modem wifi, cellulare e quindi imparare per esempio a utilizzare un rilevatore di onde elettromagnetiche. Quindi è diversa per esempio misurare tra dalla parete, tenere il letto per esempio aderente alla parete dove passano i fili dell'alternata a 220-230 volte a 50 Hz o magari vedere con uno strumento rilevatore di campi elettromagnetici quanto distanziarlo. Certe volte magari basta distanziarlo anche di mezzo metro o un metro. Un'altra cosa molto rapida è anziché utilizzare il portatile che ormai utilizziamo tutti, pensiamo allo stress elettromagnetico da smart working. Quindi sotto il notebook c'è l'hard disk, vediamo qui andiamo a misurarlo, andiamo proprio a fondo scala. Cambia tutto se invece andiamo per esempio a utilizzare una tastiera, come io dico sempre, collegata a una USB direttamente al computer. Allora esco da queste prime diapo e vado invece sui nostri rimedi. La prima domanda da farsi è come faccio a sapere quanto il soggetto ha caricato un tipo di stress elettromagnetico? Poi abbiamo appena detto che esistono tantissimi tipi di onde di diverse frequenze anche in base al tipo di dispositivo, perché se sto vicino per esempio a un computer fisso e sono molto vicino all'alimentatore, il computer fisso è alimentato con la corrente di rete a 50 Hz, quindi ho una frequenza bassa. Ma se ho vicino anche il modem wifi, allora lì sono attraversato da frequenze ben molto molto più alte. Quindi cosa succede? È facile essere attraversati, permeati da più tipi di campi elettromagnetici e da diverse frequenze. Quindi come faccio a saperlo? Allora, sono rimasto molto coinvolto da questa tecnologia che ho conosciuto direttamente, chi l'ha ideata e messa a punto, perché mi permette anche di andare a identificare, dobbiamo magari spendere due parole sul capello, ma non so oggi se ne abbiamo il tempo, che i capelli praticamente vanno a registrare un po' tutta una serie di informazioni che l'essere umano della situazione a 360 gradi, quindi queste informazioni poi vengono emessi dal bulbo vivo perché emette campi elettromagnetici. Quindi ora vediamo che qui c'è una spirale ricettiva che poi viene collegata, ovviamente c'è tutto un device, una tecnologia coperta da brevetti internazionali, e praticamente questi segnali vengono trasformati da digitali ad analogici, poi vengono quindi inviati, nel nostro caso in Germania, riconvertiti da digitale ad analogico e abbiamo tutta una serie di dati. Ora, questo in particolare che ci interessa è andare a vedere, per esempio, quanto siamo influenzati dalla telefonia mobile, da campi di radiofrequenza, quindi addirittura riesce questa tecnologia che commercialmente viene attualmente chiamata S-Drive, ma è unica al mondo da quanto io so, addirittura riesce a dare una settorializzazione, cioè una specifica, dei vari tipi di stress di natura elettromagnetica. Questo perché è particolarmente importante? Perché la persona che ormai si abitua a essere permeata tutti i giorni, pensa che sia normale, non ha la minima idea che invece ci sono diverse possibilità per reagire, per far qualcosa contro questo stress di natura elettromagnetica, che ripeto è innaturale e che di questi numerosi tipi e con questa intensità non c'è mai stato nulla di simile nella storia umana. Quindi noi viviamo qualcosa che è nuovo, quindi è un salto, anche questo è un salto nel buio, per cui l'unica cosa che possiamo fare è rendere consapevole, consapevole, quindi puoi sviluppare con tutta una serie di spiegazioni ad hoc, la consapevolezza dei nostri utenti, ma anche nella formazione medica che è fondamentale, arrivare a far capire per esempio con delle misurazioni prima e dopo e far vedere come cambia la situazione. Questo ora in particolare riguarda lo stress di natura elettromagnetica, ma quello che ho potuto notare recentemente è che riducendo lo stress elettromagnetico, sempre tramite il test S-Drive, andiamo a vedere che c'è una riduzione dello stress di natura ossidativa. Quindi noi possiamo andare a fare tutta una serie di misurazioni, per esempio anche con oscilloscopi, spettrofotometri, abbiamo già visto che bisogna... Ecco, la bibliografia un attimo, questo è importante. Ritorniamo un attimo al fatto che c'è un punto di contatto fra stress di natura elettromagnetica e inquinamento industriale. Allora, abbiamo visto che esiste, quindi la magnetite nel cervello, quindi ci si nasce, ed è una biomagnetite naturale. Abbastanza recentemente, Maher e colleghi hanno identificato che c'era una rilevante quantità di magnetite nel cervello e da dove scaturisce questa ulteriore quantità di magnetite, Maher e colleghi vanno ad affermare che arriva, quindi la respiriamo, da nanoparticelle provenienti dall'inquinamento industriale. Ora, questo cosa significa? Che sempre recentemente, quindi per questo non ci si può rifare a qualcosa di storico, quindi è tutto nuovo, quindi vuol dire che noi andiamo ad assorbire un'ulteriore magnetite, oltre a quella naturale biologica con cui ci si nasce, scaturante dall'inquinamento industriale. Che cosa porta questa magnetite di origine esogena? Quindi noi abbiamo una magnetite endogena e questa che si assorbe a livello esogeno. Potrebbe peggiorare, aumentare la produzione di ROS, quindi aumentare, come abbiamo già detto prima, lo strassossidativo, ma altri lavori dimostrano che aumentano, che i campi elettromagnetici artificiali aumentano lo strassossidativo, e l'aumento dei ROS sono correlati a varie patologie degenerative, ce ne sono tante, fra cui l'Alzheimer. Questo è riportato da Maher e colleghi. Un altro lavoro ancora più recente, del 2017, evidenzia che addirittura ci sono nanoparticelle di origine magnetica, quindi le abbiamo nel nostro interno. Ora, questo che cosa significa? Che recentemente diventiamo sempre più magnetizzabili, quindi oltre alla biomagnetite, ricordiamoci, abbiamo ovviamente il ferro, ma l'inquinamento ci fa aumentare questa stress di natura elettromagnetico dato dall'inquinamento, quindi qui abbiamo un doppio attacco, perché abbiamo una forma elettromagnetica artificiale di tutto quello che abbiamo detto. Ma perché possono aumentare, secondo me, gli elettrosensibili? Perché c'è anche questo tipo di inquinamento ambientale, ancora misconosciuto, c'è anche da nanoparticelle di magnetite, quindi non solo aumenta l'intensità dei campi elettromagnetici artificiali, adesso si arriverà a 60 volte per metro, ma in più diventiamo anche più suscettibili. Quindi, secondo me, sarà logico che ci sarà sempre più una popolazione di elettrosensibili. Tanto è vero che negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda la mia, diciamo, esperienza, aumentano anche, come dicevo prima, i meteopatici, proprio perché a primavera, per attività solare e geomagnetiche, c'è una maggiore attività di natura elettromagnetica. Allora, andiamo a vedere nello specifico, quindi. Vado a identificare innanzitutto la situazione, perché io prima ancora dei rimedi veri e propri, prima abbiamo visto il rimedio di base, quello di cercare di essere il più possibile alla distanza di sicurezza, dai cellulare, dai tablet, dal modem wifi, dalle radiosveglia, dal phone, chi ha le piastre a induzione elettromagnetica, anche quelle, starci il più lontano possibile. Quindi, identificare la distanza di sicurezza, cioè quella distanza in cui il campo elettromagnetico, diciamo, è più ridotto. Poi, devo nel mio utente sviluppare la consapevolezza della sua situazione. Con il test S-Drive, con 3, 4, 5 capelli di colbulbo fresco, quindi appena prelevati, mi vado a identificare la situazione. Quindi ho tutta una serie di indicatori e questi indicatori mi serviranno prima di tutto per vedere qual è la situazione, ma poi anche per vedere un before-after e per sviluppare, prima e dopo, i rimedi messi in atto e per sviluppare, da una parte, la consapevolezza nell'utente, sin dalla prima identificazione, ma poi anche per far vedere che qualcosa oggettivamente sta cambiando in meglio, se va bene tutto, perché altrimenti si può vedere anche qualcosa in peggio. Come funzionano in generale? Quindi abbiamo detto che i capelli emettono campi elettromagnetici, questi campi elettromagnetici risuonano con la spirale. Questo concetto, ora lo rivedremo, c'è un'altra tipa di tecnologia che è la smart card e l'ultima invece, si chiama vitalizing card, ma praticamente questi vibrano, oscillano e quindi entrano in risonanza e quindi tramite questo principio, cerco proprio di spiegarlo in un modo più semplice possibile, si arriva a percepire questi messaggi tramite il dispositivo S-Drive. Ora vediamo che una spirale estremamente simile, se non praticamente la stessa, la ritroviamo sulla card. Ora questa card, quella diciamo, la prima su cui ho svolto varie esperienze che io partivo da estremamente scettico, dopodiché dopo aver fatto una serie di test in gruppo, cinque, sei persone, eravamo trenta, quaranta, eravamo parecchi, immediatamente con dei passaggi di questa particolare card si incrementava la forza, come possibile, eppure era riproducibile su praticamente tutti. quello che ho notato, tanto più la persona era stanca, stressata, un po' giù di tono, tanto più era maggiore l'incremento di equilibrio e di forza acuta, diciamo, in una forma di forza massimale. in questa diapositiva in particolare si dimostra come passando l'acqua su questa spirale e utilizzando un indicatore di ossigeno, sembra magia, ma non lo è, è scienza all'avanguardia, addirittura si incrementa l'ossigeno nell'acqua. Strumentale. L'altra cosa particolare che per esempio che dava da pensare anche a tutti gli scettici che fa cambiare il gusto per esempio ai liquidi che si bevono. Quindi c'è proprio un cambiamento vero e proprio. L'ultima tecnologia che sfrutta la precedente smart card, infatti questa si chiama vitalizing card, alla doppia spirale che abbiamo già visto, che quindi è un circuito risonante, oscillante, è aggiunto un microchip. Ora, negli ultimi diciamo sette-otto mesi sto facendo numerose esperienze con questa vitalizing card, ho anche dimostrato e misurato la forma d'onda con vari tipi di oscilloscopio, un video l'ho mandato alla scuola di alta formazione dove ho misurato la forma d'onda inserendo un elettrodo all'interno del chip e l'altro invece su una delle zone laterali ovvero in particolare su questa zona dove viene presa la pinza che tra l'altro questo è un mudra quindi la card viene impugnata, questo è il messo così è il cim mudra dello yoga, del tantra kundalini, i mudra sono canalizzazioni di energia quindi qui viene impugnata e inserendo qua un elettrodo e qua un altro si vede proprio una forma d'onda particolare quali sono gli effetti in vivo quindi da una parte dovevamo dimostrare che emette qualcosa di oggettivamente misurabile e questo personalmente l'ho già fatto in modo riproducibile perché non è che ho fatto una misurazione ne ho fatte decine altra particolarità poi è stata utilizzare questo tipo di card mettendo a punto una serie di passaggi che ho imparato in alcune scuole in India dove si utilizzano lì lo chiamano prana oggi in ambito quantico potremmo dire con l'intenzione la concentrazione una forma di emissione di biofotoni concentrata quindi potrebbe essere che è un'ipotesi ovviamente la vitalizing card con i suoi con la sua emissione ovviamente questa non ha batteria non ha niente è una tecnologia particolare dove potrebbe aumentare canalizzare migliorare ottimizzare il campo elettromagnetico di colui che sta facendo il trattamento e ovviamente del ricevente ho visto che anche particolarmente importante quando viene fatto il trattamento che si è ricevente sia chi effettua il trattamento con la vitalizing card fai fare prima delle pratiche tipo di rilassamento rapido delle respirazioni e poi soprattutto utilizzare la vitalizing card con questi passaggi in cui si passa anche con rotazioni spirali insomma quello poi se vorrà il nostro amico Giorgio ci faremo proprio un corso specifico ma la cosa particolare è che non solo un incremento di forza immediato aumenta l'equilibrio aumenta sono misurabili anche dei parametri fisiologici nel giro di due minuti quello che ho potuto vedere è che il microchip per esempio può essere ricaricato da luce ad alta intensità per esempio una luce bianca intensa emessa da un led di quelli ad altissima intensità che si chiamano led Cree sono led di ultimissima generazione ad alta intensità si usano anche nelle torce militari per esempio ho fatto anche altre prove con torce che emettono invece la sola fascia elettromagnetica visibile dell'ultravioletto quindi diciamo ho potuto mi sono potuto divertire a sperimentare vari tipi di range frequenziali a livello di luce la particolarità cos'è ho potuto notare che è come se si tendesse tra virgolette a scaricarsi cioè è come se ogni tanto bisogna ricaricarla con queste fasce di luce come funziona sono ipotesi per adesso siamo nella fase esclusivamente sperimentale osservando in vivo in vivo quelli che sono i risultati un'altra particolarità che ho potuto vedere è che prendendo il cellulare inserendolo per 30 secondi un minuto a contatto col cuore dei vari diciamo amici con cui ci si autosperimenta si perdeva rapidamente gli effetti quindi il cellulare collocato pensate a tutti quelli che lo tengono all'interno della giacca dalla parte del cuore insomma quindi facciamo in realtà bisogna fare di tutto da una parte per cercare di ribilanciare perché l'effetto della vitalizing card probabilmente è quello di ribilanciare di riportare in coerenza i fenomeni bioelettrici bioelettromagnetici e indogeni del corpo umano in altri corsi ho portato numerose bibliografie su come la scienza attualmente utilizza anche se molto poco i fenomeni della emissione di campi elettromagnetici del cervello e del cuore quindi parliamo del magneto encefalogramma e del magneto cardiogramma sono addirittura più precisi ma essendo molto molto più costosi si utilizza ancora l'elettrocardiogramma e l'elettroencefalogramma però attualmente è incontrovertibile perché scientificamente è provato che il cervello e il cuore emettono peculiari campi elettromagnetici a questo punto è evidente che lo emettono anche altri organi cioè per esempio uno era un ufficiale di marina che non faccio nome ma ha scoperto per caso studiando i radar stava studiando dei radar per identificare le mine o altri oggetti che potevano essere metallici in mare e ha scoperto per l'emissione da parte della prostata con forme di neoplasie che questo suo apparecchio che doveva essere una specie di sonar ma qualcosa del genere andava a captare questo campo ovviamente questo io l'ho sentito dire non lo posso dire per certo però questo all'interno del discorso che ogni organo probabilmente anzi lo darei per certo emette un suo peculiare campo elettromagnetico questi sono in in equilibrio tra di loro migliaia di anni fa questi gruppi di organi venivano chiamati chakra quindi all'interno della yurveda all'interno della medicina tibetana a livello esclusivamente empirico senza strumentazioni senza niente migliaia di anni fa avevano identificato queste forme di energia a gruppi di organi ovviamente questi chakra non sono svincolati tra di loro sono uniti e collegati da vari tipi di canali energetici con varie strumentazioni del mio laboratorio anche alla sapienza abbiamo fatto tantissimo lasciato a bocca aperta una valanga di medici facendo vedere come con un microamperometro o con un megaometro ad alta sensibilità e bassissima caduta di segnale si andava a misurare questi fenomeni bio elettrici che mutano con quale velocità questa è la cosa particolare ha una velocità enorme basta pensare a qualcosa che dispiace oppure si dà un pizzicotto e questi fenomeni elettrici che si vanno a misurare riproducebili non come intensità ma a livello qualitativo soggettivo quindi bisogna fare un prima e dopo soggetto per soggetto ma si vede che l'emotività per esempio altera notevolmente addirittura anche se uno ha mangiato troppo insomma vi ho parlato per decine e decine di ore nei corsi che ho coordinato metodologie anti-aging antastress che ho coordinato la sapienza per anni però il punto fondamentale qual è? La vitalazione zinccarda potrebbe entrare potentemente ad aiutare il riequilibrio dei vari sistemi bioelettromagnetici che purtroppo sono in questa epoca fortemente alterati la stessa diciamo azienda produttrice però ripeto ho conosciuto personalmente l'ideatore di queste tecnologie di base aveva mi ha mi ha confermato che la nuova vitalizing card emette vari tipi di frequenze e che li emette cerca aiutando a in questo riequilibrio quello che io penso che sia molto importante però l'interazione tra chi effettua il trattamento e tra chi lo riceve quello secondo me è ancora importante cioè vanno bene tutti i dispositivi però noi dobbiamo anche ricordarci che dobbiamo anche partecipare attivamente ognuno di noi allora qui abbiamo una tecnologia a dir poco recente sorprendente e che però funziona in vivo ma non può essere misurata perché allora se la vitalizing card è misurabile ed emette e quindi con oscilloscopi digitali oscilloscopi anche tradizionali possiamo andare a vedere che c'è proprio una vera e propria emissione ovviamente emette campi a bassa intensità perché va a riequilibrare i campi a bassissima intensità quelli ovviamente biologici invece questa quest'altra tecnologia è perfettamente integra ed è a mio giudizio di sperimentatore pratico complementare perché agisce in un modo complementare ma diverso questa spiegarla in un ambito ufficiale istituzionale è un po' più complessa perché questo agisce su energie diciamo chiamiamole più sottili quindi noi cosa andiamo a misurare con i numerosi rilevatori di campi elettromagnetici andiamo a misurare una serie di frequenze e di energie diciamo che conosciamo però c'è ancora tanto che non conosciamo essendo un appassionato di medicina quantica da tantissimo tempo io sono un master di tantra kundalini quindi ho portato avanti medicina quantica ricerche varie ma sempre con la mentalità dello scettico possibilista nel senso che osserviamo vediamo se dà dei risultati oppure no quindi la prima volta che ho provato il libratum mi sono rifatto a delle esperienze già fatte con la vitalagine card ovvero tecniche di equilibrio forza in acuto e così via rispetto alla vitalagine card ho potuto notare un effetto lievemente più lento ma su alcuni soggetti più marcato perché secondo me bisognerebbe utilizzarli entrambi ma in un modo complementare perché mentre questo va collegato a ogni dispositivo elettronico quindi al retro del cellulare adesso lo stiamo sperimentando sotto l'hard disk dei notebook cioè la zona in cui come ho fatto vedere prima con rilevatori di onde elettromagnetiche è dato dal disco che ruotando quindi crea un intenso campo elettromagnetico tant'è che su vari rilevatori di campi elettromagnetici addirittura arriva a fondo scala soprattutto quando il computer sta lavorando e quindi sta per esempio salvando state lavorando qualunque tipo vada ad accelerare fortemente la velocità del disco quindi l'undis libratum va collocato nella zona in cui potrebbe fuoriuscire potrebbe essere messo il campo elettromagnetico a maggiore intensità questo almeno diciamo come come linea base dalle esperienze che abbiamo fatto adesso in generale questa è un'ipotesi arriva a percepire uno stato di incoerenza del soggetto umano nel momento in cui è diciamo stressato dai campi elettromagnetici artificiali in questo nel momento in cui lo percepisce questo ovviamente a questo punto è ripeto ancora una forma ipotetica per arrivare a spiegare le osservazioni in vivo emette dei delle energie io non posso neanche dire nello specifico dei campi elettromagnetici del tipo di energie che ancora ogni momento si scoprono altri tipi di particelle quindi emette un quid meglio dire così che va aiuta a riportare in coerenza il soggetto e come lo possiamo andare a vedere sempre con le solite tecniche per esempio tecniche di equilibrio per esempio tecniche di classica posizione dell'albero dello yoga la posizione della bilancia cioè quello che uno vuole tecniche di forza in acuto e lì ci sono diverse diverse tecniche che possiamo utilizzare è stata fatta una prova addirittura sugli eritro usciti tutte prove che adesso andremo a rifare maggiormente perché questa è una tecnologia innovativa che sta per uscire è già uscita però chiaramente è qualcosa di rivoluzionario quindi noi possiamo arrivare a capire che abbiamo due metodologie di per compensare gli effetti da da stress elettromagnetico che si completano quindi la vitalizing card emette le campi elettromagnetici abbiamo già visto che cerco di riassumere almeno da esperienze che ho svolto in questi ultimi mesi è importante che vi sia una forma di intenzione e di concentrazione cioè mentre uno l'operatore la passa non deve pensare a essere distratta ad altre cose idem chi la riceve colui che va a ricevere idem deve essere sempre diciamo concentrato ricevere mentre invece per quanto riguarda l'undis libratum lui agisce direttamente dal dispositivo di prove ce ne sono tantissime io vorrei magari quando si riuscirà in presenza farle vedere dal vivo perché a parole secondo me è difficile far capire i risultati io penso sempre che la cosa migliore sia provare dal punto di vista pratico come vediamo questa è la parte che va viene attaccata al dispositivo ci sono una serie di segni che ricordano molto tipo architetture e disegni qualcosa di sacro qualcosa di particolare per chi segue un po' queste queste linee queste forme geometriche ovviamente questo è un quid in più perché quello che emette poi all'interno è un brevetto particolare ma la particolarità è l'effetto in vivo che bisogna bisogna assolutamente provare allora questa è l'ultima l'ultima cosa proprio per farvi vedere lo stesso strumento questo è lo stesso strumento ovviamente per chi si occupa di rilevazioni semi amatoriali questi sono strumenti che chiunque può acquistare quindi non vado a utilizzare anche se li ho nel laboratorio su cui ho investito tantissimo non vado a utilizzare strumenti che poi il medico o l'operatore dicono sono troppo costose quindi cerco di portare avanti a livello formativo e divulgativo strumentazioni che sono acquistabili e utilizzabili e fruibili un po' da tutti ecco la particolarità si vede che qui sta a fondo corsa fondo corsa a destra io ho collegato una banale tastiera quindi l'uscita ricordiamoci l'uscita dalla porta usb è 5 volt 5 volt in corrente continua quindi frequenza zero quindi 5 volte in corrente continua campo elettromagnetico ridottissimo eccolo qua è tutto a sinistra praticamente quasi zero questo cosa significa sembra sembra importante sì e lo è ancora di più perché se pensiamo a quante ore passiamo al computer a quanti lavorano con lo smart in smart working e passano le giornate con le mani con le dita sulla tastiera magari proprio nella zona dove è l'hard disk e quindi il campo elettromagnetico più alto eccolo qua fondo corsa quindi proprio sulla tastiera immaginiamo che se utilizzo una serie di device e già comincio a ridurmi o a riequilibrarmi in più trovo la distanza di sicurezza dai vari dispositivi cellulare tablet in più magari utilizzo una economicissima tastiera usb con collegamento usb ecco che piano piano nulla è miracoloso ma se collego tutto insieme una serie di fattori ecco che posso aumentare le mie capacità accenno anche se non è qui l'argomento l'importanza dell'alimentazione della gestione dello stress e dei nutraceutici per rinforzare i nostri sistemi bio elettromagnetici endogeni perché più si è forti e più anche si riesce diciamo a resistere a questi continui assalti allora io mi fermo in questo momento ci sarebbe tantissimo da dire ma passo la parola a Giorgio grazie guarda ti ho detto quasi quasi da un po' più di tempo invece sei stato puntualissimo perfetto nei tempi Alessandro altre la tua la tua esperienza ormai da anni riesce a trasmettere la pratica ed è quello di cui abbiamo bisogno oggi perché non possiamo più raccontarcela noi come dicevo questa mattina non possiamo arrivare a contare la strage degli innocenti dopo l'inquinamento e risolvere i problemi alzando i livelli ammessi come succede adesso esatto con i 5G o con l'inquinamento dell'aria che respiriamo oppure con gli inquinanti ammessi nella frutta nella verdura ma di cosa stiamo parlando già abbiamo fatto stragi adesso e voi volete aumentare i livelli ammessi siamo veramente il glifosato lo toglieremo tra qualche anno tanto è uguale nel frattempo sì nel frattempo che facciamo ma arrangiatevi un esempio che faccio ai miei utenti Roma è piena di buche per la strada tutta distrutta il rimedio qual è stato mettere i limiti di 30 allora di 30 allora strada dissestata la mentalità ormai siamo così sì è un po' come adesso che vedi la situazione asfaltano come se l'asfalto poi fosse la soluzione di tutto asfaltano i sanpietrini soprattutto dove non serve nel nel su nel rive del tevere cosa serve vai a vai a fare questo nelle strade della città insomma dove basta pensare alla mortalità di quelli che viaggiano in motorino quanti danni e quanti morti ci sono nelle città dove la strada è dissestata e insomma noi dobbiamo aspettare le tragedie come il ponte Morandi come i ponti che io comunque Giorgio lancio qui una proposta magari poi di parlare più nel dettaglio della parte tecnica ancora di più facendo vedere per esempio un cambiamento io potrei fare anche delle misurazioni live con vari tipi di strumentazione perché una delle cose più strane che mi riportano varie persone quando vi faccio vedere la vitalizing card dicono ma sembra un pezzo di plastica come fa a emettere campi elettromagnetici quindi la la prima particolarità è dimostrare che vi è una emissione oggettiva poi che tipo di frequenza è un oscilloscopio digitale di ultima generazione non ti dà solo la forma d'onda ma ti dice anche quale è la frequenza principale è certo è certo altra particolarità che se io la vado a impugnare in base a chi la impugna cambiano le armoniche sovrarmoniche subarmoniche io penso che sia importante qualcosa di visivo perché vedendo tu capisci che c'è qualcosa che interagisce con la vita quindi oltre alla vitalizing card c'è l'essere umano esatto c'è l'essere umano quindi guarda Alessandro io sai sto per organizzare e mi farebbe piacere un evento dal vivo proprio i primi di settembre quindi se vuoi e sei impegnato che non sei in ferie insomma sei invitato a fare magari una mezza giornata di formazione su queste cose all'atto pratico perché è quello che ci interessa io ti faccio un esempio tu hai parlato prima di Undis di Librato che ha messo a punto Massimo Fulgini che ascolteremo poi nel pomeriggio ma da quando lo utilizzo non mi brucia più la testa non so più quel fastidio all'orecchio utilizzando il cellulare anche se ormai lo uso in viva voce cerco di usarlo il meno possibile perché ormai mi avete lavato faccio vedere come viene collegato perché così eccolo lì eccolo lì sono dietro sì ormai mi avete fatto lavaggio il cervello quando ascolto Fioranelli te sono Marinelli insomma Spaggiari tutti questi che ci danno delle dritte e ci fanno capire che la vita è urgente e che purtroppo non stiamo pensando ai nostri alle future generazioni ecco ai ai io penso a mio figlio che ha 15 anni ecco quindi cosa dire grazie di cuore Alessandro insomma vi aspettiamo ai corsi online e alle prossime appuntamenti grazie complimenti grazie a voi buon proseguimento allora adesso andiamo nella clinica da veramente la clinica della dottoressa una presidente dell'ISD come sapete delle marche è responsabile delle marche e inquinamento campi elettromagnetici e neurosviluppo